This is AI, un avatar di legno personalizzabile grazie a un sistema digitale, che puoi modificare per farlo assomigliare a te oppure alle persone che ami. È il simbolo di AI for Children, la community al fianco dei bambini che sostiene i progetti di crescita dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, raccogliendo la solidarietà di aziende e privati. Un simbolo bello e originale proprio come te. Entra a far parte della community AI for Children. Avrai la possibilità di creare il tuo AI personale. Ci sono due tipi di AI. L'avatar digitale, pronto da scaricare e condividere. L'avatar di legno serigrafato, un oggetto originale, unico, come te. Per creare il tuo AI, dona ora.